gentili telespettatori buona giornata nel centrodestra rotondi che mi ha sempre fatto simpatia come parla rotondi è forte no rotondi dice la vera risorsa e giorgia meloni lei e matteo come moro e fanfani non so se il paragone calza molto perché insomma vabbè comunque il centrodestra non esiste esiste solo nella vostra mente no così dice fan 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 c'entra gianfranco rotondi presidente di verde è popolare verde è popolare dice il centrodestra non esiste non è una coalizione vedete vertici esiste un coordinamento di programmi esistono delle battaglie comuni esiste un'idea per portare un nostro candidato premier a palazzo chigi io vedo solo una cooperativa elettorale per eleggere dei deputati di cui poi ciascuno farà l'uso che vuole cooperativa elettorale ma se tu fai una caro rotondi se tu fai una cooperativa elettorale per eleggere dei deputati devi vincere le elezioni governare eccetera eccetera non c'è un candidato premier a palazzo chigi caro rotondi dicendo così fai il gioco di salvini e berlusconi che non accettano che giorgia meloni sia il capo del centrodestra ormai giorgia meloni con fratelli d'italia hanno 7 8 punti di vantaggio su su salvini salvini alcuni sondaggi lo danno al 14 e alcuni sondaggi già andano a giorgia meloni verso il 23 per cento 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 quasi 9 punti percentuale facciamo 8 ecco con 8 punti percentuali non è più la cosa che è un sondaggio dice che davanti salvini ormai il sorpasso è avvenuto da diverso tempo ormai è chiaro che il leader del centrodestra sia giorgia meloni poi che non sia riconosciuto da salvini e berlusconi perché sono invidiosi quello ormai l'hanno capito anche i sassi del fiume vicino a casa mia così gianfranco rotondi racconta in un'intervista alla verità nella quale rivolge anche un consiglio al leader di forza italia silvio berlusconi dice suggerisco a berlusconi di essere il costruttore dell'equilibrio politico di l'italia che verrà l'italia orfana della democrazia cristiana a proposito di democrazia cristiana hanno fatto un'indagine e hanno visto che gli ex democrazia cristiani la gran parte sono finiti a votare per giorgia meloni è un sondaggio di un mese e mezzo fa diceva proprio questo i democraziani la gran parte sono finiti in fratelli d'italia a parte questo credo che berlusconi non abbia più gran voglia di fare politica anche perché lo vedo abbastanza stanco e anche comprensibile per quello che salvini gli gira intorno è gli gira intorno perché vuole che berlusconi gli regali forza italia vuole fare a fusione non la scissione a fusione vuole fare la fusione in modo che in modo che lui diventa il segretario di questo nuovo partito così salvini si sbarazza anche del nome lega che gli sta stretto ormai perché secondo lui gli impedisce di crescere in realtà in parte è anche il simbolo che ricorda la lega di bossi della padania ma la parte da leone la fa salvini nell'aver distrutto la lega perché la lega nonostante il simbolo che sia scomodo per il centro sud italia era arrivata al 34 35 per cento quindi bisogna anche dire le cose giuste pertanto questa è la la realtà e berlusconi potrebbe realmente regalare il partito a salvini l'idea era quella che salvini sarebbe diventato il segretario di questo partito nuovo e berlusconi il presidente onorario insomma messo lì ma senza più nessun ruolo operativo in politica anche perché berlusconi poi realmente fisicamente fuori dai palazzi con la condanna lo hanno allontanato dai palazzi questo era l'obiettivo dopo 30 anni di processi era quello di allontanarlo dalla politica e ci sono riusciti cosa che stanno cercando di fare oggi con i processi open arms eccetera eccetera con salvini vedrete che arriveranno a una condanna di 23 anni per farlo fuori dalla politica se non se non c'è un contro ordine vedrete che si arriverà a quello bene poi rotondi dice che serve un nuovo partito italiano che unisca nord e sud ceto medio operai e che oggi non c'è e non si crea di certo con le cooperative elettorali o con un trio medusa il partito che unisce nord e sud c'è già e fratelli d'italia di giorgia meloni ovviamente rotondi ne vuole un altro per trovare lui una collocazione perché il partito che ha raccontato prima che si chiama presidente di verde è popolare io è la prima volta che lo sento quindi capisco che lui voglia un soggetto nuovo dove trovare una sua collocazione e poi continuo a battere sto punto sulla democrazia cristiana aveva tanti leader con ruoli diversi penso che anche salvini e meloni possano intendersi e anche molto bene sì si possono intendere anche molto bene ma tra i due c'è una barriera di invidia che ha costruito salvini è attenzione quindi certo che i due si possono intendere molto bene le idee sono molto sovrapponibili ma c'è la barriera dell'invidia che impedisce questo intendersi se nelle stagioni aurea della vita della repubblica moro e fanfani giocavano di squadra pur non avendo un rapporto cordialissimo perché salvini e meloni non possono fare altrettanto moro e fanfani stabilivano che andava a palazzo chigi e chi invece aspettasse la guida del partito e qui dovrebbe esserci un salvini che dice certo meloni sei tu il capo del centrodestra e tuo palazzo chigi e purtroppo salvini non ci riesce ad oggi non ci riesce è più forte di lui manco riesce a telefonare a giorgia meloni non appare il numero sul cellulare e non perché giorgia meloni lo abbia bloccato e dice è arrivato il momento di scegliere il nome del candidato del centrodestra per il governo che verrà ma come scegliere il nome rotondi e giorgia meloni il candidato leader premier insomma lui dice trovo che giorgia meloni sia la risorsa su cui investire per la candidatura premier a finalmente ci siamo arrivati per una ragione elementare l'elettorato sta già scegliendo così siamo arrivati no ok grazie a tutti e buon proseguimento di giornata